Sono Marco Lucchinelli, nella mia vita ho affrontato tante sfide. Vincere il mondiale è stata la più grande, una scommessa sulla quale nessuno avrebbe puntato. Ho realizzato qualcosa che sembrava impossibile, senza l'aiuto dell'elettronica. Grazie ad essa, oggi ho superato nuove sfide e ho ritrovato l'entusiasmo per affrontarne altre. Le e-bike mi hanno dato questo e ho trovato un nuovo team pronto a guidarmi verso la prossima vittoria. E-bike Store Brescia, make it possible. Grazie a tutti.